Ben trovati la TG della mobilità a cantiere notturno nella galleria Giovanni XXIII, stanotte dalle 22 alle 6 è prevista la chiusura del tunnel tra Pinetta Sacchetti e Foritalico in direzione dell'Olimpico. E questa notte è orario prolungato per le linee della metropolitana con le ultime corse da capolinea all'1.30 della notte. E concluso il servizio delle metro sugli stessi percorsi sono in servizio le linee di bus NMA, NMB, NMB1, NMC, sempre il venerdì e il sabato, orario lungo anche per il tram 8 con le ultime corse dal Casaletto alle 3 di notte e da Piazza Venezia alle 3.29. E tutto per questa edizione del TG della mobilità.